Chi mi segue ha visto già lui in uno scorso video, no, lui ha AMD Ryzen 9 6900HX, mi sono trovato benissimo, mi sto trovando benissimo, è il mio main mini PC Windows, perché sapete che io uso Mac, quindi l'unica alternativa a Windows per me è lui, e mi hanno voluto mandare quest'altro, che è un po' più piccolino, però ha Intel, i7-12650H, non nella tredicesima generazione che è effettivamente l'ultima, quella prima, però sulla carta, io ho visto vari test, vari benchmark, assolutamente comparabile con la AMD, ok, può dire che si equivalgono insomma, più o meno, no? In effetti avrebbe avuto più senso paragonarlo a un 13900H, mi pare che sia questa la dicitura, però è sempre out of stock la versione con questo Intel qui, i9 tra l'altro, quindi vabbè, ma ho riscontrato delle limitazioni, effettivamente sì, su Intel rispetto ad AMD, e allora mi sono chiesto, ma eccola lì che finalmente vedo la differenza tra queste due aziende, quale vado a comprare io? Chi consuma di meno? Chi è più efficiente? Chi pesta di più? Chi costa di meno? E tutta un'altra serie di domande che in questo video cerco di andare a rispondere. Allora, io sono partito, tutto cacciato, ma che bello mi è arrivato, lo attacco al mio LG 4K monitor, tra l'altro ha due HDMI, due Type-C, quindi c'è modo insomma di collegarlo a più schermi contemporaneamente, ma, bello no? Va tutto come deve andare, d'altro ne va bene, l'interfaccia, il browser, ok. Facciamo di benchmark. Mi sono cascate le palle. Com'è possibile che su Cinebench in multicore la AMD faccia 11.122 punti rispetto ai 5.141 dell'Intel? Ho detto no. Ma scusate, ma non dovevano essere pressoché paragonabili, ok, perché è vero c'è l'Intel di 30 generazione, ma non è che abbiamo un salto ipergalattico e comunque dovrebbero essere piuttosto allineati, no? Faccio un test in single core e vedo che l'Intel è 1750 contro i 1500 di AMD e quindi il single core, ma è una cosa risaputa, di Intel ha un risultato migliore. Però non mi tornavano i conti. Com'è possibile che c'è tutta questa differenza in termini di numeri su delle macchine che sono grandi pressoché allo stesso modo? Sempre in uno stato di compressione sono, no? È come andare a mettere un i9 superpotente all'interno di un laptop o di un ultrabook. Chiaramente subisce delle castrazioni, però ci sono delle differenze. Allora ho detto prendiamo la palla al balzo e vediamo un attimo di capire come siamo messi, insomma, al di là delle macchine appunto. Entrambi hanno un TDP base di 45 Watt. Abbiamo una differenza in termini di core. Questo Intel ha 10 core e lui invece ne ha 8. Com'è possibile che lui sia più potente invece dell'Intel? AMD, in questo caso, tutti i core che equipaggia su questa macchina hanno un clock maggiore. Già qui ci dà un Int a riguardo. Però, in questo caso specifico, ecco, questo esolo un attimo da tutto il confronto più generale AMD versus Intel, per quanto riguarda l'i7, noto che c'è un trottling forzato. Come dire, lui non va mai in trottling. È incredibile questa cosa. Come può la casa blu aver creato un qualcosa che non mi taglia le prestazioni di 2.8? Perché? Perché le taglia subito in partenza. Dopo 5 minuti la AMD mi taglia 20 Watt di potenza, 18 gradi di CPU e 300 MHz in CPU. L'Intel, allora, non gliene frega niente. Perché dopo un 20-30 secondi in PL2, presumibilmente, me lo spara in PL1, ok? Quindi, come dire, il taglio base per quanto riguarda la potenza, no? E quindi diciamo che non è che c'è un trottling. C'è una castrazione a monte terribile e fortissima, ok? Ma è perché si surriscalda tanto? No, in realtà no. Entrambi mantengono delle ottime temperature, devo dire, ok? E questo è un altro quesito, un altro problema di chi magari si trova a scegliere tra desktop, mini PC o laptop, no? Le temperature, gestione termica, trottling. E quindi la mia CPU inizia a far fatica se gli do in mano dei compiti molto pesanti, no? In realtà loro due gestiscono abbastanza bene. Però fermi tutti perché se vogliamo parlarne in privato, in modo costruttivo, io vi aspetto all'interno del Gran Privé, il mio gruppo Telegram dove potete chattare con me e gli altri membri, e anche nella Gran Boutique per sconti su componenti, anche PC, monitor, c'è un po' di tutto. Vi aspetto. Questo Ryzen 9 ha picchi a 65 Watt con 94 gradi in CPU e 88 gradi in GPU. L'Intel 58 Watt, 92 gradi CPU e 66 gradi GPU. Anche il clock è castrato. 3 GHz massimo che ho visto in tutte le esecuzioni e 4.2 invece. Cioè capite che siamo proprio su due livelli diversi, no? E che cosa mi dicono questi dati? Che AMD con il 10% in più di energia utilizzata o il 30% in più di prestazioni. E allora ben venga l'utilizzo di maggiore energia, è indubbio che AMD sia più efficiente di Intel se noi li andiamo a mettere esattamente sullo stesso piano. Questo considerato all'inottica di un acquisto. Con gli stessi vattaggi è più probabile che un AMD abbia delle prestazioni migliori. E riesce anche meglio nel raffreddamento della CPU dopo che gli ho dato un carico pesante. AMD scarica un 57 gradi centigradi contro un 49 gradi dopo 5 minuti. Quindi diciamo che potenzialmente appunto è più efficiente nel ripristinare delle normali condizioni. A riprova del fatto che Intel tende a consumare di più anche con un uso base. Stessi programmi installati, stesso runtime, ossia nulla, assolutamente nulla in esecuzione dopo un riavvio freschissimo. Abbiamo l'i7 che è a 3.7 Watt con 33 gradi. La AMD a 3.3 Watt con 32 gradi. Ok? E stanno facendo la stessa cosa. Nulla, no? In questo caso specifico abbiamo un processo produttivo differente. 10 nanometri, 7 nanometri. E questo, nell'atto dell'efficienza delle temperature, inficia assai. Intel tendenzialmente neanche è riuscita molto bene negli anni a creare un qualcosa con dei bassi nanometri. Invece AMD è molto più brava in questo, insomma. E quindi ciò aiuta nei consumi. Ma dopo tutti questi test mi sono detto Mmm... Però, come dire, tutta questa differenza non è normale che ci sia. Andiamo a fare un salto nel BIOS. Vediamo se mi trovo davanti, come dire, a dei prodotti overclockabili oppure no. Allora, teoricamente, il mio Ryzen 9 6900HX, proprio perché ha la X finale, lo è. È overclockabile. Però Ryzen Master, che è il tool ufficiale di AMD che gira su Windows, non pare funzionare. Cioè, nel senso, mi dice che la CPU non è supportata. Ma com'è possibile? Credo che ci sia, allora, come dire, un problema di scheda madre, piuttosto. Mentre per il mio 12650H, H non c'è nessuna X o K o KF, per cui non è overclockabile. Di fatto, con Intel Extreme Tuning Utility, anche lì non si combina assolutamente una mazza. Per macchine di questa tipologia, ok, ma che possono essere anche portatili, state attenti che se volete effettuare overclock e avete delle componenti potenzialmente in grado di farlo, non è detto che riusciate facilmente, poi ci sono anche magari degli escamotaggi ogni tanto, a effettuare questa operazione. Perché io sono andato nel BIOS e sul mio Ryzen non c'era alcuna traccia di overclock, ok? C'erano dei settaggi in più rispetto al BIOS dell'Intel, ma non ho trovato assolutamente nulla di utile. Per quanto riguarda Intel, l'unica cosa che ho trovato nel BIOS è effettivamente, come dire, uno sblocco a prestazioni massime. Invece era messo, mi pare, subbilanciato, ecco, ho cambiato questa opzione ed effettivamente anche nei benchmark ciò gli ha dato una spintarella ulteriore. Però comunque assolutamente tutti i funzionamenti, i ragionamenti che vi ho spiegato fino ad adesso riguardo a come gestisce temperature e tutto, rimangono. Cioè, questi sono, tra l'altro, curiosità. Badate bene che tendenzialmente AMD è più rapido a uscire dallo stato di sleep. 4 secondi rispetto ai 10 del mio carissimo i7. Altra cosa, la ventola, ragazzi. Anche questa è una cosa che noi, con, diciamo, i prodotti della Casa Blu, siamo abituati a sentire costantemente. 47 decibel contro 36, cioè la differenza è assolutamente notevole. Anche quando non fa nulla, è qualcosa di veramente fastidioso. Chiaramente io andando a impostare anche dal BIOS prestazioni massime, buonanotte, che avrò una ventola silenziosa. Per quello c'è la modalità quiet e comunque così quiet non è alla fine, dai. Considerate anche questo all'acquisto. AMD appunto, grazie ai nanometri, grazie all'efficienza, alla gestione delle temperature e tutto, chiaramente anche la ventola tendenzialmente ne fa un uso un po' inferiore. Adesso passiamo ai giochi. E qui c'è da ridere. Perché abbiamo un i7 con scheda grafica integrata. Intel Iris Xe. Se avete una cosa di questo tipo, voi siete fottuti. Siete fregatissimi già in partenza. Perché avete un qualcosa che è il minimo indispensabile per far girare l'interfaccia di Windows, qualche giochino tipo Minecraft, magari a settaggi nemmeno stratosferici e basta. Questo Ryzen 9 viene con una Radeon 680M integrata. Siamo su un altro livello. È chiaro che, come dire, un componente come questo processore 12650H andrebbe appagliato ad una scheda grafica dedicata. E allora sicuramente tirerebbe fuori delle cose ancora migliori, se parliamo a parità di condizioni di tutto, rispetto all'AMD. In questo caso non è così. E io vi dico, fate attenzione quando comprate dei laptop, dei mini PC o comunque questo tipo di macchine portatili e compresse, perché se non c'è una scheda grafica dedicata all'interno, per quanto riguarda Intel, insomma state attenti, perché potreste non ritrovarvi, soprattutto a lungo andare, con delle prestazioni soddisfacenti, insomma, in termini grafici o di fluidità. Mentre AMD implementa una GPU di buon livello comparata al costo, all'efficienza energetica e poi anche quelle che sono le prestazioni. Quindi parlando proprio di prestazioni, prima di vedere gli FPS vi dico una cosa riguardo alla cache, è importante nei giochi, ok? La cache del processore. Che tendenzialmente è in maggior quantità sull'Intel, questo permette quindi a questi set, per esempio, di accedere alla RAM in modo più rapido. O meglio dire, non accede di fatto alla RAM ma accede alla cache per fare prima, ok? I test evidenziano, insomma, un certo ritardo da questo punto di vista per l'AMD. Planet Coster, il mio gioco preferito, abbiamo un Ryzen che va a 29 fps di media contro i 20 dell'i7, quindi un 32% in più di prestazioni per Ryzen 9. È una tale potenza, la si denota anche nel rendering, ok? Abbiamo un 33% in più di velocità per questo AMD, il che è assurdo. Pensare che questi due prodotti sono venduti quasi allo stesso prezzo, pressoché allo stesso prezzo sui 700 euro all'incirca, poi in genere erano entrambi i coupon. Se li trovate disponibili, che spesso non sono disponibili, vanno out of stock. Credo che dopo tutti questi test, dopo tutte queste disamine, la scelta sia abbastanza automatica. AMD. Sì, per queste macchine, secondo me, è un'ottima scelta. Su macchine desktop, invece, tenderei in effetti ad andare su Intel, che è più costoso, gestisce un po' peggio magari il consumo energetico, però io posso pestare tanto, tanto, tanto che so che ho quelle prestazioni. Qualcosa di solido, di stabile, ci ficco dentro una qualche Nvidia super mega potente e bam, ho fatto centro. Non che AMD non sia valido, anzi, secondo me, per quello che è il mio uso d'ufficio di rendere Nvidia un po' più creativo, lo trovo ben più indicato e mi sta piacendo davvero tanto perché noto i vantaggi. Anche quando l'ho fatta soffrire tanto, la fluidità è sempre, c'è sempre stata, ok? E questa è una differenza che ho notato proprio tra AMD e Intel. Però è anche vero che, insomma, i gamer più incalliti difficilmente vi diranno Oh, vai su AMD. Vi diranno che è meno ottimizzato, insomma, è più complicato che ciò accada. Tenete presente una cosa, che se mettiamo tutto sullo stesso piano, la differenza tra uno e l'altro sta tutta nei dettagli. Ed è difficile notarli, questi dettagli. Quindi lasciate un grosso like e ditemi qual è la vostra scelta, su che macchina avete effettuato questa scelta. Oh, raga, io se ho detto delle bagianate, perdonatemi, nel senso non sono super ferrato in questi argomenti, però vi ho portato la mia e mi è piaciuto fare questo video, sicuramente ne farò altre. Quindi noi ci vediamo in una prossima production. Ciao!